Ma buon salve a tutti abcp io sono furabion e un benvenuto a tutti in pokemon per la splendente per fare il nostro tredicesimo episodio Conoce anche fede Salve Prima di iniziare proprio come sempre sigla Allora in questo episodio andremo ad Are Nepoli Are Nepoli, ah no siamo arrivati Oh ciao Vulcano E' uno dei super 4 Oh amico allenatore i tuoi pokemon sono molto forti riesco a percepirli Mica ma è un dialogo tra premi nobel proprio geniale cavo Entriamo sei pronto? Sei carico ad affrontare l'ultimo capopalestra? Vabbè Corrado se è corrado a testa di cazzo affrontami E va bene sfidante non capita spesso ma alcuni allenatori decidono di venire a sfidarmi Si tratta di notte noiose neanche una goccia di sudore per battermi Stavolta sarà diverso mi spiace Io sono Corrado il capopalestra Dice che io sei il capopalestra migliore della ragione di Sinnoh Si bla 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 Dici di quello che vuoi tanto adesso ti uccido Uccidiamo Corrado dunque Inizi con Raichu no? Si Raichu Però questo qua mi sa che ha pochi pokemon elettrass Non ce l'ho capito Vai subito di terra finna Del remoto L'è più veloce usa surf Aspetta sono di tipo drag Infatti non è molto efficace Perchè spiace tipo drag No la fatica Sto sacco di Mmm Vabbè E' bella pasta Perché terremoto è sempre terremoto Octilleri Aspetta è acqua Octilleri Octilleri Il polvo Molto caldo che carino Molto semplice Prossimo Ambipom Sette a poco Ipom io l'adoro E' uno del mio polvo normale Credo preferito di quadra Purtroppo Guarda Ipom Guarda quanto è bello ambito E' troppo adorabile E' troppo adorabile E' troppo adorabile Vai usiamo un po' calcolpo Giusto per divertirci Vai E' più veloce E' più veloce Prossimo E' tenna Mento Goffa Usa po' calcolpo Po' calcolpo To' che smash Ok Bravo Crepa No Bestia Vabbè c'è più po' calcolpo E' comunque un po' dentissima Tu Hai la pacca Sì certo E noi abbiamo mosse Troppo forti Stai guardia Ora tiro un po' il mio assone La manica Sì Un assone la manica Che però non si può farci niente Perché è elettrico Però bella questa L'inassione che è piaciuta No Perché l'hai spostato Cazzo Fuoco al colpo Sperando che vada a segno Fai a segno Bravissimo Crepa Fuori Luxray Ok Almeno è morto Addio Corrado E' battuto E' battuto Sì 6.000 soldi È stato l'incontro Sì Ti sei divertito Bene La medaglia A fare il mio Bene Yes Bene 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 Molti Pokémon Di qualsiasi livello Possono darmi retta Bene MT57 Cosa mi dai? Mi dai? Ragio scossa Va bene amici miei Spero che questo video Di Pokémon Parla Splendetta Vi sia piaciuto Come dico sempre Iscrivetevi Mettetevi il piace Facete tanti per commenti Le pagine in Instagram Che trovate sotto La descrizione Attivate la campanella E noi amici miei Ci rivedremo presto Grazie a tutti